Tanti gli eventi organizzati dal comune di Montesilvano per le prossime festività natalizie e De Martinis un calendario davvero ricco. Abbiamo cercato di regalare alla nostra città un cartellone il più variegato possibile. Le location all'interno delle quali verranno portate avanti questi eventi sono principalmente tre. Sono la piazza Diaz, la centrale piazza Diaz di Montesilvano, il Paladin Martin, ma anche il Porto Allegro quanto la piazza Trisi di Montesilvano. Ci saranno eventi dedicati al jazz, ci sarà un ricordo di Pino Daniele a tre anni dalla scomparsa avvenuta il 4 gennaio del 2015, ci saranno spettacoli dialettali, ci sarà uno spettacolo di Christian Cappellone, noto imitatore e showman abruzzese, ci saranno due momenti dedicati appunto alla solidarietà con gli ummo che avviceranno i ragazzi al mondo del rock e durante la cui esibizione ci sarà una raccolta fondi a favore della ricerca per la sindrome di Rett, ma ci sarà anche Simone Pavone con Fabrizio Fasciani che si esibiranno in un giro in 30 canzoni dell'Italia, ma accompagnati in questo caso dalla città dei ragazzi di Alanno che è stata destinataria di strumenti musicali e di lezioni gratuite a seguito del premio Massimo Riva. Il 15 dicembre con l'arrivo in slitta trainata da Rennevere per i di Babbo Natale, ci sarà un concerto gospel l'8 dicembre e il 6 gennaio in occasione della Befana ci sarà la seconda edizione della discesa delle Befane che prevede la discesa appunto di simpatiche vecchine scendere dal palazzo di città per raggiungere la piazza dove regaleranno caramelle ai più piccolini. Tutto questo contornato da mercatini natalizi tradizionali, abbiamo nonostante tutto, nonostante quello che dicevo all'inizio, risorse economiche esigue, abbiamo regalato un Natale che ci auguriamo possa essere un buon Natale per tutte le famiglie montesilvanesi.